Buonasera a tutti, benvenuti al TMV News edizione speciale, buon Santo Stefano a tutti, anche a Luca Vaggellini qui accanto a me. Auguri Lorenzo, auguri a tutti i nostri telespettatori. Dicevo edizione speciale perché punteremo l'attenzione in questa puntata del TMV News sui top e i flop del nostro campionato, della nostra Serie A, anche attraverso dei collegamenti che faremo con la nostra redazione, cercheremo di capire chi, secondo tuttomercatoweb.com, ha maggiormente deluso e ha maggiormente incantato. Intanto sentiamo Luca Vaggellini qui accanto a me, qual è stato il tuo top per quel che riguarda questi primi mesi del campionato? Beh, allora vado sul sicuro e vado in casa Atalanta, mi gioco la carta a Franchesi, un centrocampista che ha avuto modo di seguire anche lo scorso anno a Cesena, quando è stato in presido appunto in Romagna. Già lì aveva fatto vedere qualcosa di buono, quello che si è visto quest'anno sinceramente è stato, Lorenzo, qualcosa di difficile da immaginare perché ha avuto un impatto con la Serie A fin dalla prima giornata assolutamente devastante. È un centrocampista che ha i ritmi per gli inserimenti, per vedere la porta, sa dare qualità, sa dare quantità e non è un caso che tutte le grandi squadre abbiano deciso di visionarlo da vicino, non solo le italiane ma anche soprattutto le big della Premier League. Per me lui è il top assoluto della Serie A sperando che ne rimanga protagonista a lungo ma non credo. Eh sì, potrebbe andare all'estero però quantomeno potrebbe concludere, probabilmente concluderà il campionato con l'Atalanta, poi si scatenerà un'asta intorno a questo giocatore, già adesso si parla di una cifra, di una valutazione intorno ai 25 milioni di euro. Parlando invece della delusione poi naturalmente mi esprimerò anch'io. Beh allora in questo caso io mi gioco il nome di di Carlos Bacca perché è vero che la scorsa estate avevamo raccontato di un colombiano oramai già pronto con le valigie per lasciare Milano, per tentare anche gli l'avventura in Premier League perché c'era se ti ricordi Lorenzo il West Ham che lo voleva, che aveva già un accordo di fatto col Milan, poi è saltato tutto. Da un giocatore della caratura del colombiano ci si deve aspettare qualcosa assolutamente di più di quello che si è visto finora, si è fatto rubare il posto con tutto il bene da Gianluca Lapadula che è un esordiente nella Serie A, l'ex capogannoniere della Serie B, un giocatore sicuramente di valore ma Carlos Bacca è Carlos Bacca e quello visto fino adesso è solo il lontano parente di quello che abbiamo ammirato anche la scorsa stagione. Sono già pronti in redazione per esprimere le loro parere sul top e il flop Giacomo Iacobellis e Marco Conterio, sei curioso di sentire le loro parere? Assolutamente, soprattutto per Iacobellis. Prima però sentiamo credo Conterio, Marco Conterio. Ciao Lorenzo, parto col mio top italiano, con la mia rivelazione, ti dico Andrea Belotti non può essere altrimenti, un attaccante che è diventato di fatto anche il 9 della nazionale, il centravanti dell'Italia, quindi non può che essere la grande rivelazione di questo campionato, al netto i giovani dell'Atalanta e via discorrendo. Però se devo fare un nome, dico Belotti e voglio sentire anche Giacomo Iacobellis, il tuo top? A me piace guardare in casa Atalanta, l'Atalanta dei Miracoli di Gasperini, questa prima parte di stagione, Frank Chessy, centrocampista ivoriano, giovanissimo, però ha già segnato 7 gol in campionato e ha già tirato l'interesse di tutte le big nel nostro campionato e non solo. Allora, il flop lo faccio dire prima a te? Il flop ce ne sarebbero tanti, possiamo citare Joffrey Condogbia che anche in questa stagione, nonostante l'avvicendamento in panchina, non è riuscito a convincere nemmeno Pioli finora. Io vado invece sull'altra sponda di Milano e dico Carlos Bacca perché ci si attendevano grandi cose, da lui invece si è visto rubare al netto degli infortuni il posto non attaccante arrivato dalla Serie B come Gianluca Lapadula. Quindi Belotti e Bacca, dall'altra parte invece Chessy e Condogbia. E allora, condivisibili i punti di vista di entrambi, mi sembra sia per quel che riguarda il top che anche per il flop, io invece voglio andare leggermente controcorrente per quel che riguarda il flop, dico Locatelli, il giovane giocatore del Milan. Come top, certo, perché comunque quando si parla di giocatore che sorprende, mi sembra che possa essere proprio il caso del giocatore del Milan lanciato in prima squadra, assolutamente a sorpresa e all'improvviso per sostituire Montolivo. E mi è piaciuto, oltre che per le qualità tecniche, anche per la purezza, insomma per essersi dimostrato un ragazzo assolutamente pulito, mi sono piaciute le sue lacrime dopo il suo gol e quindi abbino alle qualità tecniche anche il lato umano del calciatore. E il flop? Il flop, dico Gabigol, è vero che ha giocato poco e quindi gli è stata data poca possibilità di mettersi in mostra, però evidentemente anche negli allenamenti, se sono stati due gli allenatori fino a questo momento a bocciarlo, ha messo anche nel suo. Mi fa piacere scoprire che sia Marco che Giacomo condividono almeno al 50% quello che ho pensato io, i miei giudizi sulla stagione, sui top e i flop della Serie A, non ci siamo parlati. Vedete il calcio allo stesso modo? Esatto, esatto, alla fine sì. Bisogna vedere se poi avete ragione, effettivamente, chissà cosa direbbero dei tecnici, magari comunque. Ecco, quello sarebbe già un altro discorso. Sentiremo magari più avanti, riporteremo le vostre valutazioni anche a qualche addetto ai lavori, a qualche allenatore particolarmente esperto. Però adesso torniamo in redazione e sentiamo anche il parere sui top e i flop da parte di Simone Bernabei e Simone Lorini. Ciao Lorenzo, inizio io con il mio top di questa prima parte di stagione in Serie A e non possiamo che ripetere il nome di Andrea Belotti, l'attaccante del Torino, è la vera rivelazione di questo inizio di campionato. 12 gol fino ad oggi, è l'attuale capocannoniere insieme ad Edin Dzeko, oltre chiaramente ad essersi conquistato oramai stabilmente il posto in nazionale. Ma Simone Lorini, il tuo top e il tuo flop di questa prima parte di stagione? Allora, io cambio ruolo e dico Mattia Caldara, difensore dell'Atalanta, ovviamente già in odore di nazionale e soprattutto di mercato, visto che la Juventus è più che interessata a portarlo a casa, magari non per l'estate prossima ma per quella dopo ancora. Per quanto riguarda il flop, dico Madolo Gabbiadini, ha avuto la grande occasione dopo l'infortunio di Milik, non è riuscito a sfruttarla se non erro neanche un gol in campionato, quindi direi due il mio flop. Assolutamente, per quanto riguarda invece il mio flop, la mia delusione stagionale, dico Cristian Teglio, giocatore della Fiorentina, Pantaleo Corvino ha fatto carte false pur di riportarlo a Firenze quest'estate, una trattativa lunghissima, Paolo Sosa continua a dargli fiducia ma per il momento sul campo il giocatore non sta ripagando la fiducia. E allora, forse più Gabbiadini di Teglio rappresenta la delusione di questo campionato, è vero che Teglio non ha assolutamente ingranato con la Fiorentina, però insomma da Gabbiadini ci si aspettava che potesse cogliere questa grande occasione che gli si presentava davanti ha dimostrato di non saper reggere la pressione e la maglia del Napoli. Io credo che su Gabbiadini ci sia anche un punto interrogativo di fondo, nel senso che per come intende il ruolo di centravanti Maurizio Sarri, forse Gabbiadini non ha proprio l'adattabilità a quel ruolo. Certo, adesso vediamo Mertens che fa tanti gol nel ruolo di centravanti, però probabilmente per uno che è già attaccante, che è già punta a suo modo, come è Gabbiadini, cambiare l'approccio ad un ruolo e comunque con il peso della maglia che dicevamo sicuramente è importante, è stato piuttosto difficile e i risultati insomma sono abbastanza evidenti. Teglio, forse a questo punto si può iniziare a dire che la Fiorentina sullo spagnolo non ci ha visto benissimo, non solo per questa prima parte di stagione ma anche per i sei mesi della scorsa perché io non mi ricordo a memoria Lorenzo una prestazione incredibile dell'ex Barcellona. Forse la partita contro Lazio, l'ultima del campionato scorso quando riuscì anche a segnare, però insomma era una partita che contava fino a un certo punto. Sì, sì esatto, sono d'accordo su Belotti, che riscuote successo ed è normale che sia così, non l'ho scelto, ero in dubbio anch'io ti posso dire questo, ero in dubbio, non l'ho scelto perché Belotti è uno dei giovani su cui si punta ormai da diversi anni, viene seguito in Under 21, Palermo era uno dei talenti emergenti dell'Albino Leffe, quindi prima o poi ci saremmo aspettati un po' tutti l'esplosione di Belotti, ho scelto che sì perché probabilmente nessuno si sarebbe aspettato olivoriano a questi livelli. Vuoi convincere tutti della bontà della tua scelta? Certo, certo, assolutamente sì. Invece su Caldara è chiaro che tanti nomi dell'Atalanta ricorrono spesso come top perché in effetti è così, Caldara che poi andrà a vestire in futuro la maglia della Juventus. Ma sono tantissimi, c'è anche il Papu Gomez, ce ne sono veramente Gagliardini, Conti, ma anche Toloi, l'ex Roma, che magari se ne parla meno ma è comunque un giocatore di valore, Dramé che sta facendo una stagione molto molto positiva, è l'Atalanta nel complesso che funziona. Caldara io credo che se la Juventus decide dopo sei mesi di Serie A di puntare forte su di lui, Marotta e Paratici hanno il curriculum per capire, per far capire quando un giocatore è buono e la Juventus è una controprova importante sulle qualità di un calciatore come Caldara. Adesso dobbiamo uscire dai confini nazionali e parlare anche dei top e dei flop all'estero, nei campionati europei, magari anche nei campionati oltreoceano. Cosa ne pensi? Vuoi andare a toccare magari, vuoi andare a uscire dall'Europa, vuoi andare in qualche campionato particolare dove comunque c'è magari qualche giocatore di grido? Allora, detto che continuo a non capire la volontà dei calciatori di andare in Cina, è vero sì, vengono coperti di soldi, quindi sotto quel punto di vista li capisco anche, rimango più sulle cose di casa nostra, del vecchio continente e vado al Chelsea di Antonio Conte perché al di là della striscia incredibile di risultati che ha ottenuto fino adesso, io credo che ci sia un giocatore che sta sorprendendo tutti, probabilmente lo stesso, anzi, sicuramente lo stesso, compreso lo stesso Antonio Conte e mi riferisco a Victor Moses. Il nigeriano era un po' uno dei giocatori in surplus della rosa dei blues ad inizio stagione, poi Conte quando ha deciso di puntare sul 3-4-3 si è ritrovato un tornante per il centrocampo a 4 che non si sarebbe mai immaginato di avere e la riprova arriva dalle stesse parole dell'ex CT che qualche settimana fa ha detto non mi spiego come un calciatore con le qualità di Victor Moses fino ad adesso sia stato considerato una pedina di scambio in trattative o piuttosto mandato in prestito per una stagione e sei mesi, viste le qualità che ha messo in mostra. Secondo me lui è la rivelazione assoluta, un giocatore che è tanti anni che è sul palcoscenico della Premier League, del campionato più competitivo al mondo ma che solo adesso, grazie anche al lavoro di Antonio Conte si sta ritagliando un giusto spazio sul palcoscenico. E il flop invece? Il flop è già... mi lascio traviare anche questa volta dai soldi ma se il Manchester United spende 100 milioni per comprare il cartellino di Paul Pogba io da Pogba del Manchester United mi aspetto un giocatore decisivo e invece il francese ha patito molto il ritorno in Premier League è il complice di una squadra che probabilmente ha dei difetti congeniti a 360 gradi ma ribadisco se un club decide di investire su di me 100 milioni mi aspetto comunque qualcosa di più di quello che ha fatto vedere l'ex Juventus. Torniamo in redazione ancora per fare il punto sui top e i flop all'estero ancora con Marco Conterio e Giacomo Iacopellis. Allora parliamo delle rivelazioni, delle delusioni all'estero voglio sentire prima da Giacomo Iacopellis la tua rivelazione? Per quanto riguarda i top non è proprio una rivelazione però il ritorno di Mario Ballotelli è tornato ad essere Super Mario 10 gol nella stagione del fantastico Nizza che per tante giornate è stato primo in classifica quindi non possiamo non citare lui. Dall'altra parte in Germania è stata grande sorpresa Illipsia e quindi ti dico l'uomo simbolo al di là dell'allenatore Hasenhutl c'è questo attaccante Timo Werner che è arrivato a Stoccarda aveva fatto male lì il retrocesso però giocatore che è veramente il trascinatore della grande rivelazione della Germania. Flop? Flop diciamo Paul Pogba, so che susciterò magari qualche critica ma finora non è riuscito a ripagare il valore del suo cartellino, a confermarlo. Sul flop ci sbilanciamo un po', allora ti dico Jamie Vardy perché è campione d'Inghilterra e non ha sicuramente pareggiato il suo score passato della scorsa stagione quindi Vardy e Pogba sono i nostri flop. Allora ti è piaciuta la scelta soprattutto per quel che riguarda il top da parte di Marco Contelio che ha puntato sull'Ipsia, grande rivelazione in Germania. Beh sì, credo che se c'è qualcuno in Germania che ha puntato un euro sull'Ipsia primo la vigilia di Natale in coabitazione col Bayern Monaco probabilmente festeggerà alle Maldive o nelle Antille a prendersi il sole buon per lui. Sì, Timo Werner è un giocatore che sta sorprendendo tutti non solo per i gol ma anche per la qualità del gioco espresso e per la capacità di essere uomo squadra perché alla fine sa aiutare i compagni, sa essere di supporto anche alla manovra. Su Jamie Vardy mi permetto di, tra virgolette... Di dissentire. Di dissentire perché aspettarsi un bis da Vardy e da Leicester dopo la stagione incredibile dello scorso anno era l'addetto lo stesso Raniere ad inizio stagione se prima ci davano 5.000 a 1 per questa stagione campioni d'Inghilterra o comunque sulla stessa falsariga siamo da 10.000 a 1 perché è stata una stagione assolutamente fuori pronostico quella delle Foxis dello scorso anno. Torniamo in redazione adesso da Simone Bernabè e Simone Lorini. Dunque Lorenzo eccoci ora con i top e i flop a livello europeo di questa prima parte di stagione per quanto mi riguarda mi piace segnalare in positivo ovviamente il campionato sin qui portato avanti da Diego Costa l'attaccante ex Atletico Madrid sta guidando il Chelsea di Antonio Conte ricordiamo i Blues sono primi in Premier League con una striscia di vittorie importantissima merito gran parte della ritrovata verve offensiva di Diego Costa per quanto riguarda i flop sottolineerei in negativo le prestazioni di Danny Drinkwater centrocampista del Leicester che lo scorso anno ha guidato le Foxis fino alla vittoria del titolo in Premier mentre quest'anno non sta riuscendo a ripetere le gesta dello scorso campionato Simone Lorini con il tuo top e il tuo flop Sì io rimango in Premier per quanto riguarda la delusione e dico Claudio Bravo portiere del City pagato tantissimo tra l'altro dalla squadra di Guardiola dopo aver cacciato malamente diciamo il portiere titolare Hart finito poi al Torino con buone prestazioni non ha diciamo ripagato le aspettative dei tifosi e soprattutto del tecnico per quanto riguarda la rivelazione mi sposto in Francia Alassane Plea del Nizza che sta stupendo in particolare la Francia ma in realtà tutta l'Europa con questo campionato super in cui sta duellando con Bonaco e Piaget per il titolo e l'attaccante è sicuramente uno dei grandi protagonisti anche quando Ballotelli è mancato si è fatta sentire la sua presenza a voi Noi interessanti, originali quelli che ci vengono proposti dalla redazione devo dire che mi trovo d'accordo sul top con Simone Bernabè perché in effetti Diego Costa sembrava un giocatore spento un giocatore che aveva perso il sorriso aveva perso fiducia in se stesso invece quest'anno sembra aver ritrovato grande smalto ed è capace di segnare gol anche impossibili uno degli ultimi gol che ha segnato mi ha ricordato un gol di Batistuta ad esempio un gol che Diego Costa ha segnato quasi dalla linea di fondo un gol in diagonale molto difficile da realizzare questo a testimonianza del fatto che ha ritrovato anche grande convinzione in se stesso per il flop invece vorrei fare il nome di Zazza perché francamente mi aspettavo che potesse essere congeniale al campionato inglese con la sua forza, la sua cattiveria, il suo agonismo la sua voglia di lottare, di non mollare mai invece non è riuscito assolutamente ad entrare in sintonia con il calcio inglese e dovrà dire addio, dovrà aprire un'altra pagina della sua carriera tra l'altro è curioso vedere come il 2016 sia stato ufficialmente sia nella parte finale della scorsa stagione che nell'inizio di questa l'anno delle rivelazioni perché adesso parliamo del Leicester come note negative anche Simone Bernabè ha citato Drinkwater come flop di questi primi sei mesi ma il Leicester lo scorso anno e in Inghilterra il Nizza in Francia e l'Ipsia in Germania invece in questa prima parte di stagione sono le sorprese del 2016 sono tre squadre che definire underdog è quasi sopravvalutarle perché sono tre squadre che comunque non sono abituate ad abitare i piani alti delle classifiche delle massime serie dei rispettivi campionati ma che si sono confermate attraverso il lavoro di una società e di uno staff si sono scoperti da alto livello diciamo così Play A, l'attaccante che ha citato Simone Lorini è l'altra bella storia del Nizza oltre a quella di Mario Balotelli che ha citato Giacomo Iacobellis sono due giocatori diversi assolutamente per carattere, per caratteristiche, per curriculum perché Balotelli comunque qualche maglia importante l'ha già vestita in carriera ma che rappresentano come il Nizza sia riuscito a tornare ad altissimi livelli in Francia duellando con due superpotenze come Monaco e Paris Saint Germain abbiamo fatto una grande panoramica sul calcio italiano ed estero siamo arrivati alla conclusione grazie a Luca Paggellini grazie a te Lorenzo grazie a tutti voi per averci seguito e di nuovo un buon Santo Stefano a tutti grazie a tutti